Si impadronivano dei cani, gli cambiavano il microchip per poi rivenderli. I carabinieri di Cerveteri hanno denunciato tre uomini per traffico di animali rubati e ricettazione. L'indagine ha permesso di ricostruire le modalità con cui i malviventi commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano per un giro d'affari di diverse decine di migliaia di euro. Per non essere scoperti, provvedevano a togliere i microchip e sottoponevano i cani a torture e sevizie di inaudita crudeltà, al punto di uccidere quelli che non venivano immessi nel mercato nero. Durante le perquisizioni eseguite in due terreni, situati a Cerveteri e a Cineto Romano, i militari hanno trovato 54 cani, di cui 15 cuccioli, detenuti in gabbie metalliche, in gravissime condizioni igieniche, molti malati e malnutriti. Sono stati sequestrati anche numerosi farmaci per uso veterinario, bisturi, siringhe monouso e un collare che emana scariche elettriche. Inoltre sono state rinvenute carcasse di cani morti, volatili e cinghiali. Uno dei tre responsabili, un 58enne, è stato trovato in possesso di un fucile con matricola contraffatta ed è stato arrestato. I cani, in attesa di essere restituiti ai proprietari, sono stati affidati al canile di Cineto.